5.000 euro a frutto di 53.000 euro non si chiedono però questi signori dove andremo a prendere gli altri 45.000-50.000 euro per continuare questa opera si preoccupano del fatto che l'assessore ha preso 5.000 euro dalla cassa comunale ma non si preoccupano degli altri soldi che serviranno e non si preoccupano di come farà l'assessore o comunque il sottoscritto o comunque i frati o comunque chi sta dietro questo percorso a fare cassa, a fare gli altri soldi per permettere a questi nostri giovani, per permettere di restare un patrimonio che è di tutti e della collettività a volte mi viene voglia di continuare la mia opera da semplice storico e lasciare perdere però poi mi chiede, mi domando perché se poi chi vuole capire capisce chi vuole comprendere comprende quali sono le motivazioni che ci spingono a fare quello che facciamo Assessore, scusa per la risoluzione lei ha parlato prima di formazione di qualità, della formazione del stile cinamite, eccetera volevo chiedere ai nostri ragazzi se hanno avuto anche delle difficoltà proprio nell'apprendere, nell'imparare quali sono queste difficoltà e in che modo si possono superare quali sono gli strumenti per migliorare questi stile cinamite e la domanda è stesa poi anche Certo Ho fatto io No, io diciamo che ho fatto ammetto di aver fatto un errore di partenza perché quando mi capitò questa occasione del progetto Leonardo di svolgere il progetto Leonardo a Budapest non seppi, diciamo, rifiutare insomma, presi al volo questa occasione pensando che poi magari non mi sarebbe più ricapitato in realtà sbagliai perché fondamentalmente Budapest, cioè diciamo l'Ungheria ha un problema per noi italiani abbastanza complicato cioè la lingua l'ungherese è una delle lingue più complicate da imparare e quindi diciamo per me è stato un handicap abbastanza forte perché avrei potuto svolgere la stessa esperienza magari insomma in un altro paese in cui magari avrei potuto imparare la lingua magari il francese, il tedesco, l'inglese, lo spagnolo invece diciamo sono andato lì una bellissima esperienza lavorativa un ottimo, diciamo ho preso tantissimi contatti un'ottima esperienza dal punto di vista formativo però diciamo dal punto di vista della lingua diciamo ho appreso poco perché l'ungherese è veramente troppo difficile quindi un consiglio che do agli altri ragazzi è quello di valutare bene la scelta della location, diciamo del luogo perché può essere un handicap abbastanza importante sono sicuramente anche di comunicazione perché poi quella è alla base io penso che le difficoltà comunque ci debbano essere altrimenti il tirocinio non avrebbe ragione di essere perché il tirocinio si fa per apprendere, per imparare anche per mettersi in discussione quindi se non ci fossero difficoltà sarebbe inutile poi metterlo in pratica l'importante è che davanti alle difficoltà poi non ci fermiamo soprattutto chiediamo sempre conferma al tutor o al coordinatore di turno e comunque dobbiamo essere pratici nel trovare anche noi gli strumenti perché per esempio mi sono trovata di fronte ad una situazione di avere poi rapporti a contatto con i bambini e quindi determinate cose non erano cioè erano incomprensibili anche perché non ho fatto quel determinato tipo di studio ma avvense in altro e quindi ho cercato di rapportarmi mano a mano sempre con l'aiuto poi del tutor al mio fianco però l'importante è non abbattersi e quindi è anche questo che poi è la valenza del tirocinio perché poi ti rende più forte e quindi ti aiuta anche ad affrontare quello che poi saranno i disagi all'esterno del tirocinio quindi quando poi vai sul campo insomma da voi mi hanno distrutto anche molto di dare le ricerche di dare le stagioni che sono le difficoltà che i ragazzi affrontano sicuramente io sono d'accordo nel senso che i pubblici ci sono ma bisogna cercare di una parte soprattutto all'interno del tirocinio con un percorso di felicità personale come qualcosa che in futuro ci tornerà in qualche modo magari non troveremo lavoro magari non vedremo assunti dall'edito in cui siamo venuti vicini ma dobbiamo cercare di prendere tutto quello di dimensitivo che può derivare da questa esperienza ovviamente l'auspicio è quello che gli accadoli che devono fare anche dall'assessore che possano trovare una maggiore diffusione su nostro territorio e che il servizio magari di orientamento o il replacement offerto dalle scuole e dall'università possa essere potenziato perché fondamentalmente l'università dovrebbe essere il ponte delimizzato per consentire l'accesso al lavoro e quindi il potenziamento del servizio di basement è ostinabile in realtà questo restauro il conseguente stagio vuole essere anche da volano per un altro progetto molto più importante e complesso non ho parlato dell'applicazione dello sito archeologico per cui si deve avere un altro stagio ancora che prevede la partecipazione di 24 stagiste quindi è un'altra realtà che affronteremo in secondo momento ma quello è di libri visto che considerate che noi abbiamo un patrimonio librario insomma di soli anni custodito presso il chemociclo e quindi sarà collocato a breve presso Castello d'Aragno Castello d'Aragno a proprio a Castello d'Aragno sarà fatto il restauro dei manoscritti liturgici quindi realizziamo un vero e proprio laboratorio di restauro cosa che all'università neanche l'università è attrezzata in questo modo quindi noi abbiamo 600 passavoli tutti quasi da restaurare i paesi di Mitrofi hanno altrettanti testi importanti quindi creare proprio una scuola di restauro affinché in comunione con le università perché loro fanno la torilia e da noi venivano a fare la pratica potremmo veramente entrare in un circuito dove non ci limitiamo soltanto alla formazione dei nostri concittadini dei nostri giovani ma una formazione molto più allargata sul territorio questo potrebbe poi come dire attrarre fondi pubblici più consistenti affinché un laboratorio vero e proprio possa essere da volare anche per una eventuale poi facoltà di restare di conservazione di restauro sul nostro territorio quindi questo è un progetto molto complesso e io lo tengo tantissimo ecco perché la realizzazione della biblioteca storica a San Vede Pozzo ma poi con la consegna di Castello d'Aragno abbiamo gli spazi affinché veramente si possa parlare di una facoltà universale o comunque una specializzazione di conservazione e restauro visto che noi abbiamo un patrimonio da restaurare un patrimonio da restaurare l'università ha bisogno di fare tirocinio quindi noi potremmo fare ospitalità potremmo in qualche modo entrare in convenzione per la propria università affinché là si possa fare teoria e quella pratica ma non è detto che in futuro non si possa fare teoria anche direttamente sul posto e quindi realizzare quel sogno che voleva tanto il commendatore De Siervo di portare l'università a Somma e perché no l'università di conservazione di restauro visto che il patrimonio noi ci abbiamo abbiamo 2000 anni di storia abbiamo monumenti bellissimi quindi la stessa chiesa angiovina del 1300 che è sepolta non la vedete cioè questo complesso nasconde nelle proprie riscere una chiesa del 1300 completamente affrescata quella potrebbe essere oggetto di studi e di restauro per 10 anni 20 anni e quindi in qualche modo far crescere anche il livello culturale dell'area visoriana non soltanto per i nostri giorni ma per tutti quelli che vedevano qua a sperimentare questa nuova opportunità cioè questa è l'intenzione dell'amministrazione dare e fare in modo che ogni progetto non sia finalizzato a se stesso ma guardi al futuro dei nostri giorni io ho 45 anni tutto quello che sono riuscito ad ottenere me lo sono conquistato da una famiglia unissima quello di direttore dei beni culturali per il quale io lavoro già da anni un compenso cioè io sulla convenzione confirmato che ho sancito con Santa Chiara di Napoli che è proprio un articolo che è specifico e che io rinuncio a qualsiasi tipo di compenso proprio per la passione che mi spinge a fare del mio lavoro una missione quindi io lavoro veramente tantissimo in questo compenso per non portarmi in questo per valorizzarlo per promuovere e per restaurarlo e questo lo faccio perché è motivato da un ideale che va di là di quello che noi vediamo perché dobbiamo sempre cercare di dare ai nostri giovani quell'opportunità mancata che noi tutto sommato la nostra generazione comunque ha avuto vi ringrazio grazie 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.